E ogni tanto, signori, ci imbattiamo in queste tristi notizie che riguardano il programma Vite al Limite, cioè il noto programma con il dottor Nau Zaradan. All'anagrafe, Yonan Nau Zaradan, ma noto tutti come il dottor Nau, segue il drastico percorso di dimagrimento di persone che sicuramente hanno un sacco di problemi, hanno forti obesità, andando a documentare per un anno intero le varie tappe dalla dieta fino ad arrivare, perché lo scopo è quello, all'intervento di bypass gastrico a cui vengono poi sottoposte le persone che sono, diciamo, preparate. Non sempre la vita dei suoi pazienti cambia in modo positivo. C'è chi abbandona e anche chi non riesce a portare a termine la missione con tutti i rischi che ne derivano. Ed è questo il caso di Larry Myers-Jerry, 48 anni e apparso nella decima stagione di Vite al Limite, è morto in Texas all'età di 48 anni. Pesava quasi 500 chili. La notizia arriva da un portavoce della famiglia, che a TMZ riferisce che il paziente dello show in onda su Real Time è deceduto per un infarto nella sua casa di Houston la scorsa settimana. Era profondamente scosso per la morte di un amico, dunque era un momento molto delicato. Su Facebook la famiglia ha anche lanciato una campagna GoFundMe per pagare le spese del suo funerale. Larry Myers-Jerry è il tredicesimo volto di Vite al Limite a morire. Prima di lui lo show ha perso Henry Foots, Sean Milliken, James King, James L.B. Bonner, Lisa Fleming e Cogliese MC Millian. René Biran, Gina Krasley, Ashley Randall, Lauren Perez e Destiné Laché. Rob Buckel e Kelly Mason sono addirittura morti durante le riprese. Il 48enne era noto con il soprannome di Mr. Butter Milk Biscuits per via della sua passione per biscotti e torte al burro. Era anche un cantante gospel, prima che la sua lotta contro il peso lo costringesse ad abbandonare questo sogno. Ma grazie a Vite al Limite, cui aveva partecipato a gennaio 2022, gli aveva regalato un'enorme popolarità. Durante il percorso nello show, il suo nome originale è My 600 L.B. LifeLay oggi è arrivato all'undici-ottantottesima stagione, era anche riuscito a sottoporsi all'intervento chirurgico che gli ha fatto perdere 181 chili. Larry Myers-Gerr era stato operato di bypass gastrico dal dottore Nozaradan. Ora la triste notizia della sua morte. Cari amici, per questo video è tutto, vi ringrazio per la visione, mi raccomando lasciate il vostro segno qui sotto, un bel like e se non siete iscritti iscrivetevi al canale oppure seguite la pagina, è tutto gratis. Vi ricordo che in questa pagina si parlerà di gossip tv, spettacolo, politica, sport, curiosità e tanto altro. Detto questo vi saluto, mi raccomando vi aspetto al prossimo video, ciao, un saluto da Max.